super green pass tamponi obbligo vaccinale la nuova stretta al via da lunedì 6 dicembre tra controlli multe e preoccupazioni ancora una volta i cittadini divisi sulle restrizioni del governo tra una cosa se voi triste questa quando si crea una separazione interna alla società dalle marche a vienna per dire no alla dittatura continua la protesta di noi siamo il popolo italiano contro le regole anti covid e sul super green pass di tommaso commenta è l'ennesima istorsione a pesero ricci detta regole più severe firma l'ordinanza mascherine obbligatorie in centro storico fino a 9 gennaio dalle ore 10 alle 22 alluvione a mondolfo in comune ha chiesto lo stato di emergenza al via le segnalazioni per i danni subite e beni mobili e immobili al via domani gli eventi di natale in tutta la provincia di pesero rubino su fano tv la cerimonia inaugurale con l'accensione della vete di piazza 20 settembre da lunedì torna su fano tv a casa di babbo natale tra poco in collegamento dal polo nord santa claus saluterà tutti i bambini buonasera e benvenuti a occhio alla notizia in apertura il nuovo decreto del governo in vigore dal 6 dicembre al 15 di gennaio un provvedimento che esclude da molte attività della vita sociale non vaccinati o i possessori del green pass base cioè quello ottenuto con un tampone negativo oggi letizia marchioni ha chiesto proprio su questo il parere dei fanesi sentiamo in arrivo il super green pass con le nuove misure approvate dal consiglio dei ministri del 24 novembre arriva una forte stretta da parte del governo nei confronti dei non vaccinati e possessori della certificazione verde base ovvero quella ottenuta con un tampone negativo che a partire dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 rimarranno esclusi da numerose attività della vita sociale il green pass rafforzato infatti permetterà ai soli vaccinati ai guariti dal covid 19 di accedere a spettacoli eventi sportivi bar e ristoranti al chiuso feste discoteche cerimonie pubbliche in zona bianca e gialla in zona arancione le limitazioni riguarderanno solo chi non possiede il super green pass inoltre a partire dal 6 dicembre la certificazione verde base sarà necessaria anche per entrare negli alberghi negli spogliatoi per l'attività sportiva e per salire su mezzi di trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale come busso tram tutti i casi in cui finora non era richiesto alcun tampone negativo dal 15 dicembre inoltre la vaccinazione diventerà obbligatoria per il personale amministrativo della sanità per i docenti e personale amministrativo scolastico forze di polizia militari e soccorso pubblico abbiamo sentito il parere dei fanesi su questa nuova stretta del governo è stato diciamo susseguirsi di restrizioni che secondo me dal mio punto di vista io sono una persona vaccinata e sono doverose però capisco anche che poi c'è tutta una fetta di popolazione che per paura o per non so ideologie più o meno politiche soffre questa questa serie di restrizioni è sempre una cosa se vuoi triste questa quando si crea una separazione interna alla società però non lo so qua parliamo di salute e anch'io ho avuto per un po di tempo dei dubbi mi sono fatto delle domande però sono dell'idea che ci dobbiamo passare il mio atteggiamento è molto dicotomico dicevo perché sono una vax convinta ma allo stesso tempo la scelta di aderire al super green pass adesso viene chiamato così la trovo una una scelta è una decisione piuttosto ambigua che non fa altro che rendere ambigua poi tutta la situazione cioè il governo anziché svolgere il proprio ruolo in qualche modo lascia abbandona la propria la responsabilità e la dà al singolo cittadino non taglia fuori nessuno però mi sembra giusto andare avanti con la vaccinazione se vogliamo uscirne questa è la soluzione comunque non poter entrare in un bar solamente perché non ti sei vaccinato perché magari per dire per noi minorenni non è neanche scelta tua poter fare il vaccino no magari sono i genitori che non te lo vogliono far fare perché non sono sicuri di quello che c'è dentro altro e quindi tu sei limitato per una scelta che non è neanche tua quindi magari è troppo è eccessivo vietare bar o altro per ancora non si sa se effettivamente è sicuro il vaccino no che ti protegge veramente dal covid però secondo quello che ancora ci hanno detto in teoria è necessario quindi secondo me è fra virgolette giusta queste restrizioni sono sono da accettare volente o nolente bisogna accettarle perché altrimenti non si va avanti le attività chiudono poi circa i pericoli che possa portare la somministrazione di questo di questo vaccino c'è anche il svolto che se non lo fai poi vai a finire in ospedale in un reparto in cui non è bello starci e tutti si vaccinano e green pass non serve la mia libertà finisce dove comincia la tua per cui se c'è mutuo rispetto uno piglia le decisioni giuste secondo me non c'è fascia di età che non di età di di professionale ok che rimane fuori rimangono fuori solo quelli che non possono farsi ma tutti gli altri dovrebbero farselo secondo me io sono per la scienza e va bene la terza anche la quarta dose io non sono d'accordo pur essendo vaccinato avendo il green pass però non sono d'accordo per chi vuole essere libero di non vaccinarsi che lo rendano obbligatorio e basta cioè mi sembra un controsenso ecco una mancanza di libertà per chi vuole essere libero di non vaccinarsi deve essere obbligatorio oppure libertà nel farlo non farlo e non escludere chi non lo fa dalla società perché li rinchiudi praticamente a casa lavoro e casa insomma per molti se serve per salvare il natale ed evitare il lockdown ben venga la stretta del governo la pensano allo stesso modo anche ristoratori e baristi nonostante tutte queste nuove misure diminueranno la clientela e l'affluenza nei locali nel periodo natalizio tante anche la confusione degli esercenti su come verrà distinto il super green pass dalla certificazione verde base questo è quello che chiedeva il comparto cercare di non chiudere perché la paura è tanta dopo aver provato sulla nostra pelle gli anni passati cosa vuol dire entrare in zona rossa con l'aumento dei contagi e quindi la chiusura dell'attività non possiamo tornare a quelle condizioni per fare ciò purtroppo c'è bisogno di un sacrificio il sacrificio è questo sicuramente ci sarà un calo perché avendo questo super green pass chiamiamolo così ci sarà un calo di affluenze nei locali per forza di cose ci saranno maggiori difficoltà sicuramente gli incassi del periodo natalizio quello che andiamo incontro saranno di meno per forza di cose però sicuramente uno deve guardare oltre non deve guardare nell'immediato ma deve guardare che questo serva per non farci chiudere i prossimi i prossimi giorni insomma la normativa secondo me è sbagliata perché danno carico a noi esercenti di verificare se uno ha il green pass e uno c'è apposta io oltre il barista primo devo fare il vigilantes e non posso fare una cosa del genere perché la mia attività è un'altra cosa io sto dietro il banco quanto arriverà il momento molti di noi non sapranno cosa fare però mettetevi sempre nei pagni nostri esercenti un ristoratore un barista che deve star qui a controllare una cosa se è super non è super devo andare a fare un corso di green pass al ministero della salute perché ormai non ci capiamo più niente e critiche alle nuove norme arrivano anche dal gruppo noi siamo il popolo italiano che sabato scorso è sceso in piazza a vienna per protestare contro l'obbligo vaccinale imposto in austria attualmente il lockdown un blocco generale e siero anticovide per tutta la popolazione a partire da febbraio misure drastiche quelle stabilite dal governo austriaco per contrastare il picco di contagi il lockdown al momento è previsto fino al 12 dicembre solo le scuole rimangono aperte e in parte il commercio al dettaglio un giro di vita è contrastato da molti cittadini che hanno manifestato a vienna a due passi dalla sede della cancelleria in piazza c'era anche un gruppo di persone partite da fano che con cartelli bandiere tricolori e striscioni hanno ribadito il no alla divisione della società e alla dittatura abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio non per fare la scampagnata del fine settimana ma per portare ai popoli europei in lotta un messaggio di unione di fratellanza vera perché quello che stiamo vivendo è il tentativo di instaurare una dittatura globale noi vogliamo portare il nostro messaggio di solidarietà a tutti i popoli europei che sono in lotto in questo momento insieme a voi chi c'era in piazza? ma in piazza c'era sostanzialmente tutto il popolo austrico perché l'Austria è uno dei paesi con il più basso tasso di vaccinazione d'Europa quindi c'è una fortissima opposizione molto importante è l'adesione delle forze dell'ordine di buona parte delle forze dell'ordine alla manifestazione erano proprio all'interno della manifestazione e sanitari schierati addirittura in camice bianco quindi con la divisa da lavoro quindi una cosa abbastanza molto molto trasversale abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria, meravigliosa come abbiamo spiegato i bandieri italiani sono venuti tutti intorno a noi perché probabilmente hanno ben ferma nella memoria, impressa nella memoria le scene di Trieste piuttosto che quelle di Roma, sanno che noi soffriamo come loro e combattiamo la stessa battaglia una lotta alle restrizioni che prosegue anche in Italia Davide Di Tommaso, portavoce di Noi Siamo il Popolo Italiano e membro del coordinamento Marche Provincia Unita contesta duramente la nuova stretta del governo Draghi Era abbastanza prevedibile perché quello che è stato in Austria qualche giorno fa si verifica in Italia è tutto come da copione Continueremo con la resistenza, Wiesestand dicono gli austriaci e continueremo noi qua in Italia come fanno loro esattamente allo stesso modo E sulle ulteriori limitazioni che cosa ne pensa? Ma questo fenomeno super grip pass non è altro che un obbligo sul rettizio per arrivare comunque per imporre la vaccinazione, l'inesima estorsione quindi io penso, sono fortemente convinto che alle estorsioni non si cede mai Intanto a Pesaro il sindaco Matteo Ricci detta regole più severe firma all'ordinanza che impone l'obbligo di indossare le mascherine in centro storico anche nei luoghi aperti Il provvedimento scatta da domani fino al 9 gennaio dagli ore 10 alle 22 in concomitanza con l'evento Pesaro nel cuore Abbiamo deciso di estendere l'orario a Spiegato Ricci perché è complicato capire il flusso delle persone che parteciperanno ai mercatini di Natale è un'ulteriore protezione per cercare di non fermare le attività e non richiudere nella massima sicurezza Per i trasgressori le sanzioni vanno da 400 a 3.000 euro E c'è un record di contagi nelle Marche dove nell'ultima giornata sono stati rilevati 575 positivi al Covid La provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino con 164 nuovi casi seguita da Ancona con 132 Inoltre nell'ultima giornata si sono verificati tre decessi legati al virus Si tratta di due donne, di un uomo di età compresa tra gli 82 e gli 85 anni In aumento anche i ricoveri negli ospedali della Regione che sono due in più rispetto a ieri per un totale di 97 Resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre cala leggermente quello dei degenti in semi-intensiva Il Comune di Mondolfo ha inviato alla Regione la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per il nubifragio di martedì 16 novembre Il Sindaco fa sapere che i cittadini e i titolari di attività economiche produttive ad esclusione di quelle agricole potranno segnalare al Comune i danni che l'alluvione ha provocato ai beni mobili e immobili entro e non oltre il 31 dicembre 2021 Le richieste di segnalazione potranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune oppure tramite PEC E la protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse Per vento forte l'allerta è valida per tutta la giornata di domani 27 novembre Nelle zone alto, culinari e montane sono previste raffiche fino a 100 km orari Cambiamo argomento È il 41enne Tommaso Dell'Adora il candidato per AIDEM per la segreteria del PD Fanese e oggi si è presentato alla stampa Il dato fondamentale sia il lavoro di squadra perché soltanto lavorando tutti insieme e mettendo insieme le forze, le capacità e le competenze di tutti si possano raggiungere obiettivi importanti Ne è convinto Tommaso Dell'Adora, 41 anni, educatore che oggi in conferenza stampa ha spiegato le ragioni e la linea della sua candidatura alla segreteria del PD di Fano per AIDEM nome che sta per idealisti, democratici e concreti Con il motto Tenaci per decidere e incidere Dell'Adora si contende la guida del partito con Riccardo Tontibandini candidato per futuro democratico Al congresso cittadino, partito il 25 dicembre che terminerà il 12 dicembre verranno rinnovati gli organismi in vista delle elezioni comunali 2024 Inclusività e lavoro di squadra sono le parole d'ordine di AIDEM ha spiegato Dell'Adora La mia candidatura deriva dal fatto che un gruppo di persone che poi si individua con il nome AIDEM ha ritenuto che io fossi la figura giusta per rappresentarli fondamentalmente Il nostro obiettivo primario è avere un partito forte all'interno della città che sia il perno della coalizione ruolo che dobbiamo avere in quanto siamo il partito di maggioranza relativa la forza di maggioranza relativa all'interno della coalizione che governa la città Questo è l'obiettivo primario e va perseguito rafforzandosi sul territorio lavorando bene con i circoli con un'organizzazione più forte migliorando la nostra comunicazione per comunicare bene quello che vogliamo fare il senso del nostro percorso all'interno del governo cittadino Perde il controllo dell'auto e finisce contro una recensione è successo oggi a Fano intorno alle 12.30 Una 72enne di Marotta era la guida di una lanciamuse stava percorrendo via Lepiceno quando arrivata all'altezza di via dei Tamirici improvvisamente, forse a causa di un malore ha iniziato a sbandare finendo appunto contro la rete la donna è stata trasportata all'ospedale Santa Croce oltre al 118 sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco perché l'auto era alimentata a GPL Tre auto invece sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto questa mattina alle 8.50 in località Chiaruccia all'altezza di Reginere Verde Garden un pesarese di 23 anni a bordo di una Mazda 2 stava percorrendo via Sesta Strada in direzione Monte quando ha tamponato una Dacia Duster condotta da un uomo residente a Gradara che stava svoltando a sinistra a causa dell'impatto la Mazda è finita nella corsia di marciopposto urtando la fiancata laterale di una Mercedes classe B in transito verso Fano nessuno è rimasto ferito sul posto anche in questo caso la polizia locale per i rilievi di legge lunedì prossimo alle 9.30 si svolgerà il terzo congresso dei pensionati della CISL di Fano per l'elezione della nuova segreteria e del direttivo i quali avranno il compito di confrontarsi con le istituzioni e gli ambiti sociali e territoriali sulla non autosufficienza sull'emergenza covid e sulle tariffe infatti le utenze, i carburanti e la ripresa dell'inflazione stanno erodendo le pensioni ha detto la CISL tenendo in considerazione che la media nel nostro territorio è di 819 euro ed ora la musica perché parte da Pesaro città della musica il tour 2022 dei Maneskin band italiana vincitrice di Eurovision Song Contest sarà un grande onore ha commentato Ricci ospitarli nella nostra città dopo il loro grande successo internazionale in giro per il mondo scalando le classifiche di ogni paese un grande traguardo un grande evento all'interno della Vitrifrigo Arena detto Ricci il concerto si terrà il 27 gennaio e i biglietti saranno disponibili da lunedì alle ore 11 e domani prende il via è Natale a Monbaroccio con decine di iniziative in programma ma anche la magica nevicata in piazza Barocci Green Pass e mascherina saranno obbligatori Il Borgo di Monbaroccio è tutto pronto? Si parte domani mattina con l'apertura dei mercatini Esatto partiamo finalmente domani mattina è un evento che non vedevamo l'ora di far ripartire proprio per per mostrare nuovamente il nostro paese dopo un anno di stop e quindi quindi siamo fieri di di annunciare l'inizio della nostra manifestazione Quali saranno le regole da rispettare? Allora ovviamente Green Pass obbligatorio e mascherine obbligatorie all'aperto e tutti i controlli verranno fatti sarà possibile igienizzare le mani all'interno della manifestazione e ci auguriamo che i nostri turisti collaborino soprattutto cercando di mantenere le distanze e non assembrandosi il numero diciamo esagerato Quale sarà la capienza massima? Allora il sabato 1100 persone la domenica 1800 state pensando di organizzare anche una prevendita online? Esattamente quest'anno la novità di quest'anno è la vendita dei biglietti online sarà comunque attiva la biglietteria sul posto quindi direttamente davanti porta maggiore però per chi volesse acquistare i biglietti prima può usufruire di questa prevendita su live ticket e ha anche una piccola riduzione sul biglietto d'ingresso Quali saranno le giornate dedicate all'evento e quali le iniziative? Allora sabato 4 e domenica 5 l'8 dicembre l'11 e il 12 di dicembre all'interno della manifestazione ci saranno sempre le location che oramai sono il nostro punto forte del nostro mercatino le ambientazioni natalizie la casa di Babbo Natale il paesaggio invernale e qualche chicca nuova diciamo perché ci piace un po' rinnovarci tutti gli anni e poi ovviamente l'immancabile nevicata che per tre volte durante la giornata scenderà anche quest'anno Sindaco tante le persone e i volontari che anche quest'anno si sono adoperati per l'evento assolutamente sì un grandissimo ringraziamento per il grande sforzo anche perché a vista tutte le contingenze si sono dovuti applicare in un periodo temporale molto breve rispetto a quello che è stato ottemperato negli anni precedenti quando nel 2019 abbiamo fatto l'ultimo mercatino abbiamo avuto uno spazio temporale molto più importante in questo ultimo mese si sono prodigati dalla mattina alla sera passando dai volontari ai nostri dipendenti comunali a tutto l'apparato che ha contribuito alla realizzazione del mercatino da parte mia non può andare che un grande riconoscimento a queste persone che hanno dato tanto per il territorio e continuano a dar tanto per il territorio non dimentichiamo naturalmente tutto lo sforzo delle forze dell'ordine per tutto l'apparato della protezione civile e questore prefetto che hanno sostanzialmente contribuito a far sì che la realizzazione di questo mercatino potesse procedere nei tempi che saranno rispettati con la partenza di questo weekend Torniamo a Pesaro dove domani non ci sarà una cerimonia ufficiale per l'accensione dell'albero ma le attrazioni apriranno al pubblico appunto da domani con l'obbligo della mascherina Nel centro storico spiccano anche i nuovi allestimenti realizzati dagli studenti del liceo artistico Mengaruni ce ne parla Angelica Panzieri Centonasse di stelle illumineranno le vie del centro storico di Pesaro per le festività natalizie a realizzarle gli studenti del liceo artistico Mengaruni in collaborazione con il comune di Pesaro piccole stelle dorate racchiuse in gabbie luminose con l'intento di abbagliare tutti coloro che avranno la possibilità di ammirarle stelle che vogliono ricordare a ciascuno l'idea del sogno che ognuno di noi costudisce nel proprio cassetto hanno spiegato i ragazzi supportati dalle docenti Palazzo e Pagnini e dalla preside Serena Perugini un progetto apprezzato anche dal sindaco Matteo Ricci l'ingegno degli studenti del Mengaruni ci stupisce sempre ha detto il primo cittadino credo molto nelle loro capacità e questo rappresenta sicuramente un bel contributo per la città la caratteristica principale è quella di unire ovviamente la città ai sogni dei ragazzi ovviamente la città l'abbiamo rappresentata con una nassa in quanto essendo una città di mare la nassa è proprio un oggetto che fa parte proprio della cultura dei pescatori quindi della pesca e all'interno abbiamo raccolto imbrigliato abbiamo ci piace dire così imbrigliato delle stelle che sono i sogni di ognuno di noi proprio per trovare quel senso di socialità di convivio che ancora purtroppo oggi non riusciamo più a mantenere un omaggio alla città di mare realizzato con impegno e passione dagli studenti delle sezioni di arti figurative e interior design le nasse in tutto sono 100 e andranno nella città di Pesaro per l'appunto per diciamo dare un Natale nuovo fare risplendere una magia un qualcosa comunque che è proprio che fa parte di noi artisti io faccio parte della sezione di arti figurative sono l'alunna della porta B e sono molto felice di aver realizzato questo progetto perché comunque sia fa parte veramente di noi sono riuscita a tirare fuori insieme a tutti gli altri ragazzi anche tramite le idee e comunque la realizzazione è stato molto bello perché comunque ci ha fatto riunire ci ha fatto sentire magari un pre magari un emozione della magia del Natale e da domani sabato 27 novembre fino al 9 gennaio prossimo apriranno al pubblico tutte le attrazioni natalizie accessibili soltanto con l'obbligo di mascherina e green pass lo scivolo di ghiaccio in via Curiel il villaggio di Babbo Natale la pista di ghiaccio in piazza del Popolo il trenino Ui Pesaro Express poi i mercatini tipici che saranno dislocati anche nelle vie secondarie del centro sabato 27 novembre a Pesaro sarà anche il giorno in cui è prevista l'accensione dell'albero più illuminato d'Italia in piazza del Popolo con le sue 100.000 luci a led a risparmio energetico non ci sarà però alcuna cerimonia ufficiale evitiamo di creare assembramenti in piazza aveva spiegato Ricci nei giorni scorsi visto che l'accensione ha sempre radunato negli anni migliaia di persone gli attuali dati dei contagi non ce lo permettono e domani è prevista l'accensione degli alberi di Natale in tanti comuni della nostra regione Fano TV alle ore 20 trasmetterà in diretta la cerimonia inaugurale del Natale più organizzata dal comune insieme alla Proloco e che prevede l'accensione della beta in piazza 20 settembre la piazza sarà blindata e l'accesso sarà consentito solo ai 200 bambini protagonisti dello spettacolo tutte le novità e gli appuntamenti del Natale a Fano li troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it lunedì pomeriggio invece prende il via su Fano TV a casa di Babbo Natale allora colleghiamoci direttamente con Santa Claus che dal Polo Nord ci darà tutti i dettagli buonasera Babbo Natale intanto le chiedo come sta e se è pronto per questa nuova avventura buonasera buonasera a tutti gli ascoltatori di Fano TV io per questa avventura sono prontissimo ho già preparato tantissimi regali e lunedì prossimo sarò pronto ai collegamenti con Fano TV per parlare con tutti i bambini delle Marche quindi mi raccomando bambini lunedì prossimo alle 18.30 telefonate allo 0721 86 14 33 e potrete parlare con Babbo Natale e faremo dei giochi e faremo e canteremo delle canzoni e poi vedrete mi raccomando telefonate e potete telefonare lunedì mercoledì e venerdì sempre alle 18.30 ciao grazie Babbo Natale allora presto e vi ricordo invece che lunedì sera a Primo Cittadino ci sarà il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi la seconda puntata di L'Appetito viene mangiando questa sera dedicata ai cappelletti in brodo buona visione arrivederci grazie